Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video True Crime. Il caso di oggi è un esempio di come la rabbia e la delusione possano cambiare l'esistenza di una persona in una manciata di minuti. Ci troviamo a Londra, a Croydon, nella parte sud della città. Un quartiere con una lunga storia artistica e musicale in cui ha sede Brit School for Performing Art and Technology. La scuola vanta tra i suoi ex studenti nomi noti dello spettacolo come Adele, Tom Holland e Amy Winehouse e la protagonista della nostra tragica storia, Sally Ann Bowman. Nata l'11 settembre del 1984, Sally è una ragazza brillante e una modella agli esordi. Vive con i genitori, Paul e Linda, e con le tre sorelle maggiori. Per quanto il suo legame con la famiglia fosse fortissimo, la ragazza ha anche un forte bisogno di indipendenza che la porta a trasferirsi in un appartamento in affitto per mantenersi, lavora part-time come modella, professione a cui aspirava fin da bambina. Il 24 settembre 2005, Sally ha da poco compiuto 18 anni e si appresta a passare la serata all'Oil's Bar di Croydon per la festa di compleanno della migliore amica della sorella Nicole. Intorno alle 18, le ragazze e la sorella arrivano al pub e iniziano i festeggiamenti. A luna del mattino, il gruppo si sposta al centro di Croydon e successivamente a casa di una delle ragazze. Poco dopo, Sally telefona al suo ex, Louis Sporston. La loro relazione è terminata da un paio di settimane, ma la ragazza ha un forte desiderio di vederlo. Si inventa che la sorella è stata arrestata per una rissa e che ha bisogno di aiuto. Louis, pur trovando strano che Sally volesse che lasciassi i suoi amici e andasse a prenderla, non se la sente di lasciare la ragazza da sola, così la raggiunge per portarla a casa. Lungo il tragitto, i due discutono nuovamente sul motivo della loro rottura. Una volta arrivati a casa di Sally, la ragazza desidera che il giovane entri con lei, ma Louis, che è consapevole che la ragazza ha bevuto e non è lucida, non vuole complicare una relazione che è comunque già ufficialmente finita, poche settimane prima. Decide quindi di andarsene verso le 4 del mattino. Pochi minuti dopo, Sally viene uccisa. Quella notte, tra le 4 e le 5 del mattino, una persona, che abita poco distante da Sally, viene svegliata da un rumore confuso e da un urlo. Guarda dalla finestra, che dà sulla strada. Tutto sommato, sembra tornato tranquillo, quindi si allontana. Per poi riaffacciarsi, 5 minuti dopo, vede un uomo che cammina lungo il marciapiede e nient'altro. Decide quindi di tornare a letto. Poco ore più tardi, intorno alle 6 e 30, una donna che abita in zona esce di casa e vede delle gambe spuntare da un cespuglio. Le sembra un manichino, ma decide di avvicinarsi e di controllare. Si tratta, in realtà, di un cadavere. La polizia arriva velocemente. Una squadra si occupa di effettuare i rilevamenti nella zona del cespuglio. Un'altra corre a casa di Sally per dare la triste notizia ai genitori. La ragazza non solo è stata uccisa pugnalata al collo e nello stomaco, è stata anche morsa e violentata, mentre stava morendo, o pochi istanti dopo. L'assassino ha portato via dal luogo del delitto, il cellulare, la borsa, il cardigan e la biancheria intima di Sally. La domanda a chi si facevano gli inquirenti era ovviamente una. Chi poteva aver fatto una cosa del genere? I sospetti caddero sull'ex fidanzato, Lewis. La polizia lo prende in custodia, lo interroga per quattro giorni e preleva un campione del suo DNA. I risultati arrivano poco dopo e scagionano il ragazzo. La scientifica, però, ha un'altra informazione importante. Il DNA prelevato è già presente nel database, combacia con quello trovato su un'altra vittima di aggressione sessuale a Pearlie, poco distante da Croydon. Un caso di quattro anni prima, una donna si trova in una cabina telefonica e un uomo aveva cercato di entrare e si era masturbato nella sua cabina. Mark Dixie lavorava come chef in un pub a sud London e aveva una lunga storia di precedenti violenti con numerose condanne per furto, molestie, aggressioni e attosciani in luogo pubblico. A solo 16 anni aveva rapinato una donna con un coltello e l'aveva molestata palpandole il seno. Lo stesso anno aveva aggredito una donna nella sua stessa auto, l'aveva stuprata, legata e aveva dato fuoco al mezzo. La vittima era riuscita a scappare dal rugo e aveva affermato che Dixie sembrava deliziato dal terrore che vedeva nei suoi occhi. Nel 1993 si era trasferito in Australia ma era stato deportato pochi anni dopo a seguito di una condanna per un reato sessuale. Quando Dixie uccise Sally aveva 16 condanne in Gran Bretagna e almeno una in Australia. L'aspetto forse più assurdo di tutto è che i suoi amici e la sua ragazza ignoravano la doppia vita di Mark lo descrivono come l'anima della festa. La sua compagna di allora, madre di tre bambini rimase sconvolta quando scoprì di essere legata a un maniaco sessuale seriale. La notte della morte di Sally Dixie attaccò un'altra donna meno di un'ora prima di uccidere Sally. La donna era per strada e stava parlando al telefono. Stando al suo racconto a un certo punto le si è avvicinato un uomo le ha detto mi dispiace e ha cominciato a colpirla e sarebbe andata avanti se in quel momento non fosse passato un taxi. Per paura di essere visto l'uomo era scappato portandosi dietro il cellulare della donna dimenticando però di chiudere la chiamata. In questo modo la persona dall'altro lato del telefono ha sentito tutto e ciò sembrava confermare che l'uomo sia la stessa persona che di lì a poco ha ucciso Sally. La vittima dell'aggressione fornì una descrizione della persona che l'ha aggredita che la polizia rilasciò al pubblico. Il ricercato era un uomo bianco tra i 20 e i 30 anni alto approssimativamente 1,80 m. I poliziotti non riuscivano però a restringere il campo. Stando al DNA il killer era un residente di Croydon o comunque di Sud London. Decisero di chiedere agli uomini che abitavano in zona campioni del proprio DNA allestendo un centro in cui le persone potessero presentarsi volontariamente a lasciare il proprio DNA. Sapevano che era altamente improbabile che il killer si presentasse ma se lo avesse fatto un suo parente sarebbe stato possibile risalire al colpevole. All'inizio del 2006 le indagini erano in una situazione di stallo. Stuart Candy che si stava occupando del caso all'inizio era determinato a scoprire la verità. Decide di contattare le vittime dell'aggressione della cabina telefonica del 2001 chiedendo una descrizione dell'assalitore. Questo nuovo identikit viene rilasciato al pubblico con l'aggiunta di alcuni dettagli sulla morte di Sandy con l'intento di incentivare le persone a fornire informazioni. Una sera di giugno Dixie si trovava in un pub a Crowley aveva bevuto molto e aveva iniziato una discussione accesa con un altro avventore. L'alterco si era protratto all'esterno e Dixie aveva buttato a terra il suo interlocutore. Proprio in quel momento una pattuglia appostata nei dintorni assiste al fatto e l'uomo viene arrestato. Al momento dell'arresto Dixie è particolarmente triste e in lacrime. La polizia al momento ignora il motivo di questo comportamento procede quindi al prelievo del DNA e lo lascia andare. Ma soli 12 giorni dopo arrivano i risultati del DNA. Mark Dixie è l'assalitore di Sally. L'uomo aveva dato l'indirizzo del pub in cui lavorava come residenza quindi i poliziotti si recano subito sul posto e attendono che l'uomo esca dalla cucina. Mark Dixie viene arrestato e accusato dell'omicidio di Sally. Durante le indagini che seguono l'arresto la polizia scopre che l'uomo ha viaggiato per Spagna Australia e Inghilterra per anni in ogni posto ha commesso crimini. Ciò nonostante è riuscito a evitare la polizia per ben 20 anni. Al momento dell'arresto l'uomo disse devo essere pazzo per averlo fatto. Poco dopo durante l'interrogatorio negò di aver ucciso Sally stando alle sue parole avevo solo trovato il corpo della ragazza e avevo deciso di violentarla. Per capire cosa è realmente successo la polizia indagò per giorni a scoprire le dinamiche dei fatti. Il 24 settembre 2005 era il compleanno di Mark Dixie. Stando alle ricerche fatte dagli inquirenti l'uomo dava una grande importanza ai propri compleanni e si aspettava sempre qualcosa di importante in queste occasioni. Quella sera Dixie si trovava con gli amici a festeggiare ma la sua ragazza non si presentò e dopo averci parlato al telefono tornò al tavolo arrabbiato e molto silenzioso. La sera continuò e l'uomo beve moltissimo e fece uso di sostanze illegali. Dopo la chiusura del pub Mark andò a casa di un amico e quando tutti decisero di andare a letto l'uomo prese un coltello da cucina e uscì. fu in quel momento che scelse di far fuori Sally la uccise per sfogare la sua rabbia e la sua frustrazione. Tuttavia sarà solo nel 2015 che Dixie ammise per la prima volta di aver ucciso Sally e i precedenti stupri da lui commessi. Da quel giorno la famiglia Bowman sta insistendo affinché venga istituito un archivio obbligatorio del DNA e questa ragazzi è la storia di oggi fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e spero di vedervi al prossimo video.